Un'impiccagione di George Orwell Noi spesso conosciamo questo autore per il suo romanzo 1984 oppure per l'altro romanzo La fattoria degli animali e quindi conosciamo quest'autore per i suoi romanzi nel genere della fantapolitica possiamo dire però in realtà lui ha scritto anche dei romanzi e dei racconti di carattere sociale quindi realistico, un romanzo realistico non di fantasia ma di carattere sociale pensate che lui era proprio nato in Birmania, scusate, nato a Motiari nel Bengala e in Birmania aveva fatto l'ufficiale della polizia imperiale e scrisse anche un romanzo su questa sua esperienza cioè, o meglio, traendo spunto da questa sua esperienza il romanzo Giorni in Birmania e poi una serie di racconti tra cui quello che stiamo per leggere adesso quindi è una sorta di reportage insomma un'invenzione, sicuramente un racconto inventato basato però su esperienze personali molto vicino a quello che ha vissuto lui in prima persona abbiamo detto che era ufficiale, imperiale si intende per impero ovviamente l'impero britannico delle Indie, dell'Oriente, eccetera, eccetera dove lui visse tantissimi anni e poi ritornò intorno al 1933-1934 ritornò poi a vivere in Inghilterra tornò a vivere in Inghilterra, eccetera però conobbe molto da vicino questa realtà ad esempio, questo racconto ci serve per riflettere molto sulla realtà delle leggi militari leggi militari spesso sono crudele sono molto rigide e soprattutto capita che per la legge marziale la vita dell'uomo spesso per motivi che magari in un'altra situazione o in un'altra condizione porterebbero insomma a una sorte diversa invece, secondo la legge marziale si va incontro a delle condanne spesso a morte e la vita dell'uomo viene svalutata viene un po' messa da parte messa in secondo ordine rispetto all'obbedienza assoluta alle leggi militari accadde in Birmania ecco, ripetiamo è in realtà un racconto una vicenda inventata ma sicuramente verosimile accadde in Birmania in un fradicio mattino della stagione delle piogge l'attuale nome della Birmania è Myanmar quando è diventato insomma indipendente poi ha assunto questo nome di Myanmar all'epoca faceva parte invece era una colonia inglese era una provincia dell'India Britannica dell'impero britannico si distaccò dall'Inghilterra insomma dalla Gran Bretagna nel 1937 e poi non solo in un secondo tempo però non subito acquisì questo nome con cui adesso noi ancora con cui la studiamo insomma in geografia il nome di Myanmar ma allora si chiamava Birmania una luce malsana simile a stagnola gialla lambiva gli alti muri e cadeva obliqua nel cortile del carcere quindi questo distaccamento di soldati diciamo tra virgolette sotto le dipendenze dell'impero britannico ha anche il suo carcere cioè il carcere militare eravamo in attesa davanti alle celle dei condannati a morte una serie di baracche chiuse col lato anteriore costituito da una doppia inferriata come piccole gabbie per animali ecco vedete anche nei particolari George Orwell sottolinea la disumanità allora lui diciamo la verità era un ufficiale quindi era anche costretto a obbedire quindi anche ad esempio in questo caso vedremo ad eseguire una condanna a morte ma adesso che lui sta ricordando queste vicende infatti lui scrive queste cose nel 1931 mentre aveva prestato servizio militare fino al 1927 ce le presenta sotto un'altra luce quindi vuol giudicare e vuol criticare questo modo anche disumano in cui vengono trattate le persone ad esempio questi soldati tra virgolette condannati a morte le celle misuravano circa 3 metri per 3 e a parte un tavolaccio per dormire e un recipiente per l'acqua potabile l'interno era del tutto spoglio dentro alcune di esse uomini scuri e silenziosi avvolti da coperte stavano accucciati presso le sbarre erano i condannati a morte destinati all'impiccagione entro una o due settimane avevano portato fuori dalla cella un solo prigioniero era un hindù un ometto gracile sparuto con la testa rasata e occhi acquosi e smarriti aveva baffi folti esuberanti assurdamente sproporzionati a suo corpo dei baffoni dall'attore comico sei alti secondini indiani lo sorvegliavano e lo preparavano per la forca ecco quindi che mattina insomma viene prelevato uno di questi condannati a morte per essere portato alla forca ecco perché si intitola un'impiccagione questo questo racconto due di loro con fucile e baionette in canna si tenevano un po' a distanza gli altri gli misero le manette vi agganciarono una catena che si fissarono alla cintola e gli legarono saldamente le braccia al corpo è proprio la narrazione di questa esecuzione capitale ecco c'è una certa disumanità che viene sottolineata dalle frasi che per esempio si scambiano gli ufficiali per esempio a un certo punto si dice che il sovrintendente del carcere che un po' discosto da noi pungolava copamente la ghiaia con la punta del bastone sollevò la testa era un medico militare con dei baffi grigi e spazzolino e una voce burbera fai presto Francis per Dio disse Costitza a quest'ora quell'uomo dovrebbe essere già morto non siete ancora pronti? ecco ancora una volta a sottolineare la disumanità della scena Francis il carceriere capo un grasso dravida anche il carceriere è un indiano con gli occhiali d'oro e l'uniforme bianca fece un cenno con la mano scura sì signore sì signore borbottò è tutto perfettamente pronto il boia ci aspetta procediamo subito beh insomma avanti mars i prigionieri non possono fare colazione se prima non sbrighiamo questa faccenda ecco vedete l'esecuzione a morte di questo povero hindu insomma deve essere fatta presto altrimenti poi non si può fare colazione agli altri insomma quindi come vedete c'è una certa insensibilità che emerge poi cosa succede? succede che mentre stanno preparando la forca arriva un cane che disturba l'esecuzione allora prendono proprio il foulard del nostro Giorgio Orwell diciamo e con il foulard fanno una specie di guinzaglio improvvisato di questo cane e lo legano ma leggiamo quello che c'è scritto anche alla riga 80 e seguenti alla pagina 146 a un certo punto anche se lo tenevano stretto da entrambe le spalle fece un lieve scarto di lato per evitare una pozzanghera sul sentiero ecco adesso il come dire il narratore che è praticamente il narratore sarebbe questo ufficiale che è una sorta di alter ego di George Orwell si sofferma un attimo a riflettere cioè mentre stanno portando questo condannato a morte vede che c'è una pozzanghera e questo condannato a morte si fa uno scarto uno scarto di lato allora questo dà modo al nostro narratore di riflettere sul fatto che questo questo uomo questo hindù che sta per essere condannato a morte in realtà è un uomo nel pieno della sua vitalità fisica infatti dice è strano ma fino a quel momento non mi ero mai reso conto di cosa significa di chi sopprimere un uomo sano cosciente quindi abbiamo detto chi sta raccontando è uno degli ufficiali giusto è George Orwell il narratore che è nella preparazione dice che ah si lo dice proprio chiaramente è proprio lui che le ha visto lui questa faccenda che era lui l'ufficiale che stava scortando il si 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 infatti ripeto sono delle esperienze sue personali che ha fatto no e quindi è George Orwell il narratore che a un certo punto riflette su questa cosa ma guarda come è stato agile quello lì che era condannato a morte a evitare quella pozzanghera ora riflettendoci quest'uomo qua è proprio nel pieno delle forze ecco quindi quando vedi il prigioniero evitare la pozzanghera compresi il mistero l'indicibile ingiustizia di stroncare una vita in pieno rigoglio infatti poi dice Orwell in un altro testo dice anche il peggior criminale che abbia mai camminato su questa terra è moralmente superiore al giudice che lo condanna alla forca insomma George Orwell con questo racconto ci vuole fare riflettere sull'assurdità della pena di morte che rende in un certo senso ingiusto anche se una persona può aver commesso tutto il male di questo mondo ma rende più ingiusto l'esecutore è il giudice che condanna quella persona piuttosto che quella persona stessa lì in quel momento quella persona è vittima di una profonda ingiustizia cioè utilizzando la legge eccetera eccetera comunque qualcuno sopprime una vita che è nel pieno del suo rigoglio dice appunto il narratore quell'uomo non era moribondo era vivo esattamente come noi tutti gli organi del suo corpo funzionavano l'intestino digeriva la pelle si rinnovava le unghie crescevano i tessuti si riformavano ogni organo si affannava in un lavorio insensato cioè riflettere su questo fatto cioè viene troncata una vita che proprio nel pieno della sua dinamicità e vitalità le sue unghie avrebbero continuato a crescere anche quando poi si sarebbe trovato in piedi davanti alla botola anche quando precipitando nel vuoto non avrebbe avuto più di un decimo di secondo da vivere cioè riflette sul fatto che comunque le cellule del suo corpo persino le unghie continuano a lavorare a a fare quello che stavamo facendo fino al momento in cui comunque la vita di quest'uomo viene troncata dall'esterno non perché è moribondo e quindi da solo sta terminando questa vita poi i suoi occhi vedevano la ghiaia gialla e le mura grigie il cervello ancora ricordava prevedeva pensava pensava addirittura alle pozzanghere lui e noi eravamo un gruppo di uomini che camminavano insieme che vedevano udivano percepivano capivano lo stesso mondo e fra due minuti uno schianto e uno di noi non sarebbe più esistito un cervello di meno un mondo di meno però ecco non solo un cervello di meno ma un mondo perché una persona è come è come un mondo un mondo di meno la forca si trovava in un piccolo spiazzo separato dal cortile principale della prigione e coperto da alte erbacce spinose era una costruzione in mattoni più o meno un capanno con tre sole pareti chiuso da un tavolato sopra il quale si ergevano due travi e una traversa da cui pendeva la corda il boia un detenuto con i capelli grigi e l'uniforme bianca della prigione aspettava accanto al suo strumento quando arrivammo ci salutò con un inchino servile a un ordine di Francis i due secondini che ora lo tenevano più stretto che mai un po' diressero un po' sospinsero il prigioniero fino al patibolo aiutandolo a salire goffamente la scala poi salì anche il boia e gli sistemò la corda intorno al collo ecco c'è anche una descrizione diciamo molto dettagliata di questa esecuzione capitale che però mentre intanto noi abbiamo in mente la riflessione che è stata fatta prima non fa altro se non amplificare il nostro giudizio negativo su quello che sta avvenendo noi attendevamo a cinque metri di distanza le guardie si erano disposte più o meno in circolo attorno al patibolo e a quel punto quando il cappio fu serrato il prigioniero cominciò a pregare forte il suo dio Rama 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 ecco il prigioniero abbiamo detto un hindu e infatti invoca una di queste divinità hindu era un grido potente reiterato cioè ripetuto più e più volte non incalzante né timoroso come una preghiera o un'invocazione d'aiuto ma continuo ritmico quasi come un rintocco di campana il cane sembrò rispondergli con un guaito il boia ancora in piedi sul patibolo estrasse un sacchetto di cotone simile a quelli per la farina e lo calò sulla faccia del prigioniero ma quel grido soffocato dal panno continuava senza tregua Rama 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 cioè il prigioniero è condannato a morte continua a invocare la sua divinità però dice non è un'invocazione timorosa come una preghiera non è neanche un'invocazione d'aiuto è una cosa che si ripete meccanicamente anche quando per esempio il boia gli mette in testa un sacchetto di cotone questo sacchetto dovrebbe servire al condannato a morte per non vedere come viene condannato a morte il boia è tornato giù era ormai pronto leva alla mano la leva che doveva appunto togliergli sotto i piedi il basamento sotto i piedi e quindi causargli la morte i minuti sembrarono dilatarsi il lamento regolare soffocato del prigioniero non conosceva soste rama 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 senza un attimo di requie cioè non fermava non si fermava mai continuava quindi a pregare il suo dio il sovrintendente con la testa abbassata sul petto tormentava piano la terra col bastone forse contava le grida per chi aveva deciso di concedere a condannato un determinato numero 50 100 non so comunque è quello che deve dare il segnale forse aspetta da al condannato ognuno ha le sue ultime volontà evidentemente questo condannato ha questo ultimo desiderio di invocare il dio e glielo lasciano invocare tutti avevano cambiato colore gli indiani erano diventati grigi come caffè di qualità scadente un paio di baionette tremavano guardavamo l'uomo sulla botola legato e incappucciato e ascoltavamo le sue invocazioni ogni grido un altro secondo di vita pensavamo tutti la stessa cosa oh uccidetelo subito fatela finita fate cessare quel grido insopportabile ecco chi assiste effettivamente però prova sempre maggiore tormento a vedere questa scena ad ascoltare come condannato continua a lamentarsi di colpo il sovrintendente si decise alzò la testa di scatto e fece un rapido movimento col bastone c'è l'ho urlò quasi con ferocia all'urlo che sta a indicare che è arrivato il momento dell'esecuzione ci fu un colpo secco metallico poi un silenzio mortale il prigioniero era sparito la corda si attorcidava su se stessa lasciai la presa e il cane corse il fulminio dietro la forca ah ecco il nostro narratore abbiamo detto protagonista ufficiale insomma George Orwell lascia la presa del cane perché questo cane continuava a scondinzolare a muoversi attorno prima l'avevano preso il fular del nostro narratore fa da guinzaglio ma adesso lo lascia libero lascia libero il cane una volta che insomma la condanna è stata eseguita il cane corse il fulminio infatti dietro la forca ma una volta giuntovi si arrestò di colpo si mise a baiare poi batte in ritirata in un angolo dei cortili e restò a spiarci impaurito tra le erbacce a voi non sembra scusate che questa cosa che abbiamo appena letto testimoni quasi quasi del fatto che persino un cane diciamo si chiede come è possibile che voi uomini vi uccidiate l'uno l'altro e restò a spiarci impaurito tra le erbacce sembra quasi il cane volerci quasi rimproverare di quello che stavamo facendo stavamo uccidendo uno della nostra specie prima è questo cane che continuava a muoversi scodinzolare correre eccetera quando però si ferma davanti al patibolo alla forca laddove c'è quell'uomo che penzola ormai senza vita si ferma persino il cane facciamo il giro del patibolo per spezzare alcuni dei pensatori avete in mente sicuramente Cesare Beccaria e altri pensatori che riflettono sull'assurdità della pena di morte spesso sottolineano proprio questo fatto cioè che tra gli animali non c'è questa consuetudine di sacrificare uno della propria specie se non raramente in alcuni casi o per alcune specie particolari giusto? facciamo il giro del patibolo per ispezionare i cadavere penzolava con gli aluci spuntati verso il suolo e ruotava molto lentamente morto stecchito il sovrintendente allungò il bastone e diede una leggera spinta al corpo nudo che oscillò lievemente ora lui sta bene disse indietreggiando uscì da sotto il patibolo e trasse un profondo respiro ad un tratto l'espressione cupa di la sparita dal volto diede un'occhiata all'orologio le 8 e 8 minuti beh per stamattina è tutto grazie a Dio ecco mi sembra che questo sovrintendente proprio esemplifichi l'insensibilità infatti per esempio anzitutto dice che lui sta bene e lui è lui che è appena morto e poi dice beh per stamattina è tutto grazie a Dio insomma come si fosse trattato di un una faccenda come tante altre insomma tante cose incombenze scocciature che ci sono compiti che ci sono da fare ecco lui aveva questo compito le guardie disinnestarono le baionette si allontanarono il cane rinsavito e consapevole di essersi comportato male le seguì furtivo uscimo dallo spiazzo del patibolo oltrepassammo le cere dei condannati a morte attenzione questo racconto però non termina con l'esecuzione con la morte del condannato ma termina secondo me in un modo abbastanza significativo cioè a un certo punto qualcuno si mette a raccontare una storia e questa storia non è altro se non l'ulteriore dimostrazione di come in quell'ambiente in quella tra quei militari eccetera eccetera si fosse davvero delle persone insensibili perché hanno appena assistito alla condanna a morte di una persona e invece di mostrare dolore sofferenza partecipazione eccetera eccetera si mettono a raccontare una storiella e si mettono a ridere sulla morte degli altri capite come termina questo racconto termina con questa genere con questi militari che si mettono a ridere sulla morte degli altri e lo stesso narratore trattino George Orwell in quella situazione in quella condizione cioè partecipa anche lui a questa risata generale anche se rileggendo il tutto noi invece lettori esprimiamo un giudizio ben diverso sulla cosa infatti cosa dice ci sentivamo enormemente sollevati ora che quella pratica era stata sbrigata quindi non solo il sovrintendente ma anche tutti gli altri compreso il nostro George Orwell diciamo così si sentono sollevati tutti i tesi fino a quando lui continuava ad essere vivo a invocare il suo Dio eccetera non vedevano l'ora che finisse questa cosa adesso tutti quanti sollevati perché questa pratica è sbrigata avevi voglia di cantare di metterti a cuore di sghignazzare di un tratto tutti cominciarono a chiacchierare in allegria con un sorriso di intesa il ragazzo eurasiatico che mi camminava a fianco accennò con la testa il luogo dell'impiccagione sa signore quando ho saputo che il suo appello era stato respinto il nostro amico intendeva il morto ha pisciato sul pavimento della cella per la paura prego signore fummi una di questa non le piace il mio nuovo porta sigarette d'argento signore l'ho comprato dal box per due rupie otto anni roba di classe stile europeo parecchi risero anche se nessuno sapeva bene perché probabilmente per esorcizzare comunque il dramma perché diciamo la verità insomma hanno assistito ad una condanna a morte si mettono a ridere a scherzare per esempio sul fatto che questo poveraccio quando ha saputo che la grazia non era stata accorta si era messo a far pipì nella sua cella da paura e poi si raccontano storielli ad esempio Francis che camminava accanto al sovrintendente era fin troppo loquace beh signore è andata nel migliore dei modi è finito tutto subito zac e via ma non va sempre così ah no no so che qualche volta per essere sicuro del decesso il dottore è dovuto andare fin sotto la forca e tirare prigioniero per le gambe molto seccante continuava a dimenarsi eh già brutta cosa disse il sovrintendente ah signore quando fanno difficile è molto peggio mi ricordo di un tizio che quando siamo andati a prenderlo si è aggrappato le sbarre non ci crederà signore ma abbiamo dovuto tirarlo in sei tre per gamba abbiamo tentato di farlo ragionare caro mio gli dicevamo pensa quanta fatica quanta erogne ci stai procurando ma che non ci ascoltava proprio ah che scocciatura quell'uomo mi sorpresi a ridere forte allora attenzione il nostro narratore si mette a ridere perché un altro racconta che altre volte non era andata tutta così liscia e avevano comunque si erano stufati parecchio perché avevano dovuto anche prendere certi condannati a morte a forza tirarli via dalla prigione eccetera eccetera tutti ridevano anche il sovrintendente sorrideva con aria conciliante meglio farsi un goccio disse con molta cordialità in auto o una bottiglia di whisky credo che ci voglia proprio capite quindi com'è con quanta insensività lui stesso affrontano questa situazione ti interessano file di questo genere allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news www.gaudio.org